Che figata ragazzi. Non ci credo. Che figata. Che figata ragazzi. Bravo, bravo, bravo Luciano. Vai Flavio. Figata. Grande Flavio. Che figata ragazzi. Vai giù fino a quel pulpito lì sotto. Vai grande Flavio. Figata. Figatissima. Che figata ragazzi. E' lì sotto dove è bello aperto. Eh sì. Secondo me bisogna andare dentro a sinistra. Sì, più stai a sinistra più è coperto. Che figata ragazzi. 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 bravo grande lì dopo questa posso mettere via gli sci no 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 questa è la prima di una lunga serie o la seconda o la terza o la quarta figata grande alla grande cosa ti avevo detto di là sì no no è così vai grande luciano vai 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 wow wow oh 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 Grazie a tutti